Le sghere boys Se anche tu sei arrivato alla missione attraverso la fenditura In cui devi riportare Carlos e stabilizzare la fenditura E non riesce a superarla Continua a guardare questo video Schiera lo stabilizzatore Oh che bello Che figata raga finalmente Che figata Allora raga cominciamo subito Vediamo che se premiamo X sulla missione Ci trasporta direttamente appunto alla missione Quindi noi la trattiamo in privato Perché vorrei essere da solo Non avere altre voci in partita Ed ecco qua che ci stiamo lanciando Allora raga eccoci qua Prima di cominciare col video vero e proprio Anche se in realtà è già cominciato Voglio informare tutti i miei fans Che sto lavorando a un nuovo format Che porterò appunto una volta a settimana Al giovedì a quanto pare Sto avendo ben chiaro Cioè ho delle idee in testa belle chiare Solo che ci vuole un po' di sviluppo appunto Per progettare tutto Non preoccupatevi Vedrete le novità sul canale Quindi per ora abbiamo una live a settimana Dove giveo Perché ormai Montestaco l'abbiamo finita Un video contest Sempre dove giveiamo A settimana Un video Che sarà questo nuovo format Che non vi spoilerò niente Però è il nuovo format E poi vedremo cosa aggiungere Anche perché ci sono tanti argomenti Su Salva al mondo Un sacco di materiale Che vorrei portare con voi Vorrei farvi conoscere un sacco di armi Farvi vedere un sacco di luoghi Farvi vedere un sacco di missioni Di ricompense Insomma tante cose Per farvi cercare di apprezzare Quanto più al meglio Salva al mondo Perché è un gioco raga Che è completissimo E adesso voi magari L'avete imparato Pensate che sia un gioco profondo Ma è ancora più profondo Di quanto voi immaginate In questo momento Cioè ogni giorno Che rilasciano aggiornamenti Il gioco diventa sempre più complesso E sempre più profondo Questa cosa mi piace Perché sono sempre in cerca Di novità Di bug Possiamo dire Anche sì Perché li ricerchiamo Anche i bug Raga è un po' che giro Nella mappa Non capisco bene cosa devo fare La finitura è teoricamente questa Ah c'è una tempesta qua In corso Ok vediamo Combattiamo Combattiamo Non so per lo standard Così se mi seccano Vabbè che Cosa sono potenza Basta Ah fatto Devo posizionare Il dispositivo Sulla finitura Ok dammi qualche indizio in più Perché Ok andiamo Schiera lo stabilizzatore Oh Che bello Che figata Raga Finalmente Che figata Ma dove è un 4 atlanti È diventato Ah è più o meno Primo laser Ecco il secondo Ne abbiamo 4 In 4 lati diversi Immagino che punteranno Alla fenditura La fantasia di Fortnite Ricordiamo che è molto Molto limitata Comunque ci sta Vedo che già non piglio più danno Oh raga Che soddisfazione Mamma mia Che soddisfazione Adesso devo per forza Andare a ballare Di fianco alla fenditura Quindi raga Visto che la stiamo preparando In solo Questa missione Vediamo che gli spawn Sono piccolini Magari ci mettiamo Una trappola a gas Ovunque Allora Allora Perfetto Qua ci mettiamo Una gas Battissima Giusto per non avere Problemi Tempo all'inizio D'attacco Un minuto Ok Perfetto Abbiamo un minuto Per preparare le difese Andiamo a andare a preparare lì Visto che Vedo uno spawn Abbastanza consistente Quindi da lì Saliranno Eh O salgono qua In ogni caso Mi metto Mi metto una di qua E una di là Almeno Evitiamo di dover fallire La missione Visto che proprio di voglia Non ne ho Ok E c'è ancora lo spawn Kill di là Però Vabbè A questo punto Ce lo facciamo Poi le armi Anzi E questo dietro Che male Intanto naga Vi ricordo che se volete Aggiungermi agli amici Io non ho problemi Vi accetto tutti quanti Però Vi chiedo una cortesia Non aggiungetemi Agli amici PSN Perché Non mi fa più accettare Oltre che non mi fa più accettare Nessuno Ma poi Non mi carica neanche più La lista degli amici Insomma Un po' di problemi PSN Se un domani Lo sistemeranno Funzionerà bene Vi accetterò anche lì Per il momento Aggiungentemi Su Epic Ok vediamo che la difesa È cominciata Ma io Non li ho coperti Vabbè tanto Ragazzi fanno tutto Voglio proprio vedere Se ce la faccio Senza coprirmi Molto semplice Questa missione Raga Ok raga Ok raga E' un po' di problemi Perché la sto registrando Dalla finitura Non prendiamo più danno Mode Questa E' un po' di problemi Non prendiamo più danno Per caricare Non prendiamo più danno Questa è un po' di problemi Questa è un po' di problemi Questa è un po' di bank